Simone Resta, l'uomo nuovo della Ferrari, coordinatore del progetto 2013. Parlaci un po' di te, della tua storia alla Ferrari. Ho 42 anni, sono sposato con due figli, vengo da un'esperienza in Minardi di alcuni anni che mi ha permesso di entrare nel mondo della Formula 1. Poi sono passato in Ferrari dove sono cresciuto passando da diversi ruoli. Mi sono occupato di design di sospensioni, ho coordinato il gruppo che disegnava sospensioni, ho coordinato l'R&D per arrivare a questo nuovo ruolo di coordinatore del progetto sulla macchina 2013. Da quest'anno l'organizzazione è stata divisa in due gruppi di lavoro, uno che segue il 2013 e uno che segue il 2014. Da aprile, circa, seguo questo gruppo che lavora sul nuovo progetto della F138. Ecco, questa macchina è, diciamo, la tua prima, virgolette, vettura. Ce la puoi descrivere un po' più nel dettaglio? La macchina è nata con un regolamento che è abbastanza simile al regolamento del 2012, un regolamento tecnico, con delle minime differenze, principalmente relativamente al nose cover e all'utilizzo del DRS in qualifica in gara. Detto questo, però, siamo riusciti a fare un passo avanti su tutte le aree della vettura, cercando di affinare tutte le aree della vettura. E, se vogliamo evidenziare le caratteristiche principali, direi che abbiamo fatto un lavoro di affinamento aerodinamico della sospensione anteriore, abbiamo completamente rivisitato la sospensione posteriore, abbiamo rivisto i flussi nella zona delle pance e abbiamo completamente rivisto l'istituzione degli scarichi rispetto all'anno precedente. Pensiamo che sia stata un'area dove ci fosse margine significativo per l'ammiglioramento della prestazione. Fra la macchina che vediamo oggi e quella che debuterà a Melbourne, ci saranno grandi differenze? Sicuramente sì. Pensiamo che in queste settimane e nelle settimane che ci porteranno ad andare alla prima gara, pensiamo di avere la possibilità di fare un passo in avanti e vi anticipo che la F-138, diciamo che vedremo la prima gara, sarà diversa da quella che vedremo al primo test. Guardandola oggi in montaggio vetture, sei soddisfatto? Sì. Penso che il gap da recuperare fosse grande, però penso che abbiamo fatto anche un lavoro organico e sono soddisfatto.